Non è che questa operazione serve particolarmente a qualche cosa, comunque voglio provare a ristaurare questo switch della Markart, antico, i pezzi ci sono tutti, vanno disossidati e vanno poi riassemblati. Facciamo un po' di lavorazione, poi alla fine del montaggio, se non ho tirato troppe bestemmie, lo testerò, alla fine sono pieno di queste schifezze, bisogna che ne recuperi il più possibile per qualche motivo senza senso.